28 mi fa un po piangere perché devo fare 8 singole però queste c'abbiamo quindi queste le schippiamo ok raro sembrava subito stesse partendo l'epico ehi ok obiettivi miei personali vabbè se dovesse uscire il nuovo biscotto super epico sarei contentissima se no in alternativa a me manca ancora crystal coral poi li ho praticamente tutti quindi mi manca crystal coral gli altri li ho tutti ho trovato anche la white lily alla fine ho preso anche la sua skinnaccia durante l'evento quindi eccoci qua due frammenti di finanziere let's go quindi il gioco raga è un gioco mobile gacha in cui voi pullate i biscotti fate i team e fate l'arena fate le battaglie di gilda fate la storia fate tante modalità differenti il modo migliore secondo me per valutarlo e provarlo tanto è sul telefono o lo potete giocare tramite brustax come sto facendo io da pc è molto carino sta festeggiando il suo anniversario in questo periodo meglio l'ha appena finito a poco l'anniversario però siamo ancora nel piano degli eventi dell'anniversario quindi secondo me se volete dargli un'occhiata ci sta e se volete vedervi qualcosa in più appunto nel mio canale youtube trovate un po di info allora partiamo con le multi let's go voi bravi spam in chat di emoticon gasiamo queste multine potentissime allora biscotto raro quindi io schifo sempre quando vedo che non c'è nemmeno un epico infatti era una bella ciofeca e un'altra ok qua c'è sicuramente per l'animazione con quei tre biscotti lì un biscotto almeno epico quindi tanta roba vediamo un po un biscotto epico può essere anche più di epico però noi diciamo per concretezza un biscotto epico quello dopo c'è il leggendario magari in realtà sto cercando un super epico non un leggendario quindi è meno del leggendario vediamo primo biscotto epico di oggi che è un epico confermato dall'immagine punkin ragazzi punkin è uscita quando io giocavo da qualche mese perché è uscita a novembre io ho iniziato a giocare a settembre 2021 e durante più o meno il periodo di halloween e l'ho usata tantissimo all'inizio non si può capire se c'è un super epico o leggendario fino a che non arrivi il punto in cui il biscotto gira puoi solo capire che c'è almeno di rank epico ma che sia un super epico o leggendario capisce soltanto il momento in cui il biscotto gira che se è viola scuro è antico se è sui suoni dell'azzurro è leggendario se invece appunto un po giallo dorato e fucsia invece è super epico poi ci sono pochi casi particolari tipo il signor pitaglia cookie che è un biscotto drago che ha un'animazione tutta sua in cui il biscotto diventa arancione eccetera bene frammenti di pomegrade e ok va bene ok ci spostiamo da ah ho da tirare anche questi sette treasure velocemente giusto per punkine adorabile sono d'accordo bella questa immagine schippiamo da perfetto tutti e due quelli lì carino bene allora l'obiettivo è trovare due copie di questa cosina mostruosetta la maccia cookie per poi andare da altre parti il signorino qua l'abbiamo già portato a tre stelle quindi non devo ulteriormente a scenderlo quindi tiriamo qua tiriamo qua io ovviamente quando sono singole schippo così e mi tengo la sorpresa di vedere se poi esce l'epico poi vediamo schippiamo si può schippare ancora angel cookie ecco due frammenti della signorina maccia che è quella che stiamo cercando bene speriamo non siamo in mercurial night non so se vi ricordate le pool ma era un dramma è stato un dramma sì abbiamo già trovato white lily insomma già trovato l'ho trovata nel suo nel periodo in cui era in età ma l'ho fatta con i frammenti perché a me non è uscita white lily pullando nel suo banner ma mi sono usciti un sacco di frammenti oh epico biscotto epico intero e lei top bene in sette singole quante sono otto top almeno una ce l'abbiamo ne troviamo un altro paio e ci si leva a questo banner perché non mi piace bruttina però top per me l'unico biscotto onestamente peggiore di questa rimane quello lì che hanno messo a caso prima dell'anniversario quello che faceva tipo kung fu sui monti che non era incastrato in nessun modo nella lore lui è stato il peggiore di tutti cioè non ho capito il senso logico ecco di nuovo back to back in singola back to back in singola no vabbè ma che mi state dicendo ma che mi dite top back to back in singola bene ne manca una qui ci sta un edz qui un edzino si può tirare si può tirare bene ne manca una ne manca una perfetto ok allora diamo sì avete mandato gli annuncini del che siamo su cookie immagino di sì comunque vai nel frattempo siamo pronti e speriamo che scappiamo possibile ma ci dobbiamo pensare adesso si va solo di molti bici e grazie per il famoso tic tac let's go molti con l'epico questa animazione quando vedete il biscotto verde di lato che è clover che sarebbe biscotto quadrifoglio quindi porta fortuna ci ha sempre garantito almeno un epico quindi se vedete lui di lato sulla destra siete sempre certi che ci sia un epico garantito quindi così diamo un po di tip per qualcuno che non gioca o che gioca da poco e queste cose non le sa ok raro alchemist epico vediamo se è lei così ci togliamo subito no erb erb grazie amo e grazie per i cuori di tic tac grazie stai ragazzi per il fallo ok abbiamo un epico garantito e infatti l'abbiamo trovato avanti seconda multi bravi voi spammone in chat ok qua può essere tutto lo scopriamo dalla strega in base a che occhi fa ok quando fa gli occhi così a rombetti vuol dire che c'è massimo un raro intero si parla di biscotti interi poi frammenti ci possono essere anche frammenti leggendari grazie per fare su tic tac ecco altri tre di matcha molto bene questo è il raro intero della multi eccolo qua poi altri due di matcha molto bene un altro di matcha tra l'altro a voi piace il sapore del matcha io devo dire che non sono una grandissima fan forse devo riprovarlo però so che il tipo il sapore del matcha o lo si ama o lo si odia ok qui c'è l'epico ah ok qualcuno guarda e tu la matcha latte biscotti o me merenda fissa mini eh allora allora nel tuo caso sei un amante tu sì direi proprio di sì eh sì o lo si ama o lo si odia io l'ho provato soltanto una volta quindi devo dargli un'altra possibilità perché con un solo assaggio alla fine uno non si fa un'idea ok vediamo se è lei è fatta se è la signorina è fatta no non è lei oh questa animazione mi sa che già una vita fa perché non la riconosco boh io forse non l'ho mai vista questo mi esce sempre con l'animazione quella standard scriptata dei primi ma non me la ricordavo assolutamente zero io questa animazione non me la ricordavo lui mi esce sempre come mi ha uscito herb che i primi in assoluto hanno questa animazione un po' particolare togliamo qua togliamo tre di pastri due di squid raro ok ancora questa multi con massimo raro la scrippo tutta un po' di maccia ma voglio proprio un'altra copia del biscotto perché io ne devo prendere sempre tre poi dopo se i biscotti piacciono insisto se no no quindi etico confermato vediamo se c'è più di un epico andiamo quanti sono? uno solo ok schippiamo questa parte andiamo allora biscotto comune bit biscotto epico? no no però lui è forte e non ce l'ho al 100 non ce l'ho al 100 frammenti anzi guarda come 69 io ragazzi non dico niente che tristezza che tristezza che tristezza che tristezza questa esistenza e qua un frammento di uno non possiamo essere di là vabbè non importa non importa non importa 69 let's go un'altra multia epico vabbè se non altro il rate degli epici è buono se mi volessero regalare una crystal coral io non non mi lamento eh sempre singolo niente doppio epico vediamo allora wizard cookie ginger brave ninja raro che è pancake pancake frammenti avocado masco il cookie dove l'esterio non c'è wizard e sì bene allora con la signora anziana maccia abbiamo finito abbiamo ufficialmente finito adesso si va in direzione altri biscotti oh grazie signora maccia grazie 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 allora raga si va qua si usano questi 37.000 qui e poi abbiamo tre multine ciao mammo tre multine nel banner del elder cookie il nostro fairy elder cookie bellissimo allora andiamo multiraro questo si va molto veloce con un frammento di un super epico stardust e ne ho trovati 300 1700 poi sempre raro non simpatici eh non siete simpatici oh tre frammenti e lasciferi eh qui non si frigge mica con l'acqua amici non si frigge mica con l'acqua e poi c'è anche un qq buoni avanti ok qui abbiamo un epico posizioni comode dove trovarle vai vediamo qua non c'è il retappa la signora quindi può essere letteralmente di tutto doppio c'erano due formine arcobaleno ce ne erano due quindi qua doppio epico amici doppio doppio epico vediamo oh due frammenti di sherbert momento super epici non è che ci dà veramente un super epico in questa multi ok primo epico epico normale ok abbiamo trovato prima due frammenti di finanzi e adesso abbiamo portato ufficialmente così a a 100 frammenti 100 frammenti ora sono anche saliti oltre però va bene poi biscotto intero si anche perché li sto portando pian piano tutti a insomma 5 stelle quindi ci sta pian piano li vorrei finire col tempo almeno quelli usciti da un bel po' ok secondo tun 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 sempre epico normale lui è quello l'ultimo esatto quello con le balene eccolo qua peppermint peppermint cookie animazione molto carina non so se lui è forte non lo uso però è carinissimo ok proseguiamo ginger brave da solo epico però guardate ginger brave come non guarda in faccia a nessuno abbiamo un epico vediamo che cos'è il ginger brave silenzioso eccolo epico normale no vabbè ma non ci credo ma è uscita oggi insomma oggi in questa patch no vabbè ma non ma non ci sto credendo mai non ci sto credendo mai raga zero zero non è possibile no non è possibile totalmente non ci sto credendo ok una malasus anche malasus è uno dei primi che ho usciti quando quando si è stata a giocare io penso sia stata la prima patch nuova che ho beccato insieme a twizzly guardati brutta marcia mi sa che così ha portato le stelle poi avanti questi due signorini questa si schippa due raspberry qui sopra ci sarebbero tre al mondo che non vedete poi epico dai dai comunque un leggendario ma basterebbe un super epico eh non pretendo grandi cose però dai un brevidino un brevidino uno ce lo meritiamo bravi voi datemi la vostra energia salte tipo le mani al cielo tipo Goku dai no raro non è ancora al suo momento non era ancora no raro di nuovo oh mi sta prendendo in giro no raro di nuovo non ci voglio credere ma quanti biscotti rari questa busti ma che è ma ci sarà da qualche parte oh oh devo tutti questi rari cosa sei chi sei buon natale amici siamo proprio in clima buon natale e felice anno nuovo a marzo perfetto buon natale amici buon natale a tutti ah già è vero che in questo banner hanno un'animazione dedicata ok solo frammenti proprio una tristezza infinita sì ce l'ho White Lily alla fine due Sino due Sino sì sì alla fine ce l'ho fatta con i frammenti non con lei mi sono uscito solo frammenti nel suo banner però forse i frammenti mi hanno voluto bene quelli oh un vampire niente seconda multi con l'epico multi con l'epico con tutti i biscotti dai 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 ce n'è uno quindi o è quello o nulla vai dai amico ti prego una gioia dai no è più normale il nonno il nonno sono stata illusa dal nonno sono disperata grazie per il follow sono disperata sono disperata sono disperata il nonno ok facciamo l'ultima multi amici e 3 di frilled personaggio non considerato e ultima multi tan 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 boom va bene va bene ce la sono lui va bene ok però è andata così è andata così Grazie a tutti.